L'errore c'è, ci sta all'interno di una partita in cui provi a giocare, però la superficialità è purtroppo a questi livelli con un Real che con un Benzema che mai come adesso è determinata e cattiva che faccia la riflessione. Un rinvio così intanto per allontanare e Mendy che va a prendersi il pallone e guardate che pasticcio, ovviamente Benzema, non può perdonare. Tutte le mosse tattiche, lo studio di Tuchel, i cambiamenti, ecco che succede. Con il primo stop gli rimano un po' sotto e qui va troppo a volte.